Da giovedì cominciano gli stati generali, sprogettiamo sulla prossima settimana, gli stati generali dei 5 Stelle. Cosa succederà? Per la prima volta, dopo tanti anni, in un evento politico, io non saprei fare nessuna previsione, perché veramente hanno deciso di affidare le decisioni alla base. È una cosa che tutti dicono, ma poi trovano sempre... Però Conte ha un certo controllo della situazione, no? No, Conte ha un certo peso come persona per il prestigio che mantiene da ex Presidente del Consiglio, per il ricordo che, soprattutto in quella comunità, ha lasciato in positivo. Però non si sta pronunciando, non sta dicendo votate così, non sta dicendo io voterei così. Quindi sarà molto interessante. A me non interessa tanto le faccende Grillo, non Grillo. Io a Grillo gli farei un contratto ancora più blindato. Ti do anche 400 mila euro, però mi fai un comizio alla settimana. Partecipi, come facevi una volta, come fa Bersani gratis, adesso che è un pensionato da parlamentare, che va in giro per l'Italia. Chi è capace a farlo, lo dovrebbe fare, non stare a casa sua a sputare veleni. Però a me interessa molto di più cosa risponderanno invece sui nuovi temi, sul nuovo programma, sul nuovo progetto. Perché poi è parlando di cose che si capiscono che i 5 Stelle hanno fregato la sinistra, che parlava soltanto all'elite. Quindi se trovano delle parole d'ordine, credibili, interessanti, un linguaggio adatto ai tempi, secondo me possono risuscitare come risuscitò la Lega, che era sprofondata al 5%. Per gli scandali lì, per le ruberie. Passò dal 5 al 40 nel giro di pochi anni. Anche loro sono un fenomeno carsico, quindi possono rigenerarsi. Sono molto curioso di vedere che cosa faranno, però previsioni non ne posso fare perché non lo sa nemmeno Conte come voteranno gli iscritti sui due mandati, sui temi, sui poteri del garante, sull'organizzazione territoriale. È un salto nel vuoto che potrebbe persino fargli bene. Potrebbero persino decidere che Conte non è più il leader perché anche lui di fatto si presenta a loro come se fosse di missionario. Ed è giusto così, viste le scopole che hanno preso. Sta a loro decidere se sopravvivere, rilanciarsi e come.